Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è domenica 29 dicembre e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise, che titola con tributi, nasce Molise Entrate SPA. La nuova società regionale riassorbirà i quasi 70 dipendenti di esattorie. Frattura e Scarabeo, con questo atto inoveremo la riscossione delle tasse e combatteremo l'evasione. La promessa era stata fatta circa una settimana fa e alla fine, in giunta, ieri, vers'ora di pranzo, è stata firmata la delibera che salva i dipendenti di esattorie SPA che saranno riassorbiti nella nuova società a partecipazione regionale, Molise Entrate SPA. Una società che, come ha spiegato il governatore Paolo Di Laura Frattura, rappresenta una forma di innovamento per la riscossione integrata e che contrasterà l'evasione. E ancora, ACEM 2013, annus orribilis bilancio dei costruttori edili per l'Associazione dei Costruttori Edili del Molise. L'anno che si sta per chiudere è stato difficile, di profonda crisi del settore economico-imprenditoriale ed è in Molise che si è avvertito maggiormente. E poi, dimensionamento, Petraroia è in regola e Sorella attacca, è già vecchio. Il vicepresidente della regione, Michele Petraroia, passa sulla difensiva. Il piano rispetta la normativa vigente e sarà inserito nell'anagrafe generale delle scuole, auspicando che ora si possa costruire un'offerta formativa regionale adeguata. Non è invece in sintonia con l'assessore all'istruzione, il segretario regionale della FLCCG alle Sorella, che ha puntato il dito proprio sul piano. E poi ci spostiamo a Termoli di Brino, Lavrei, abbattuta, restyling, scala a chiocciola e a breve bando parcheggi sotto piazza Monumento. Un'opera nata male, contestata, ora riveduta e corretta, nonostante molti volevano che fosse abbattuta. Movimento 9 dicembre, pronti a inasprire la lotta a Termoli, il presidio, al casello dell'A14. E poi la moglie muore, viene cremata, lui disperde le ceneri e becca la denuncia, occultamento e dispersione di cadavere, disavventura di un molisano. Un molisano residente a Roma voleva solo esaudire le ultime volontà della moglie, che era tragicamente morta in un incidente. E poi lo sport serie di Isernia, ecco Giollo Reto, Carannanti, Toccata e Fuga. Calcio a 5, la Isernia pareggia con il Lucera, Sartori fa tripletta. Speciale Termoli, Agnone, la cavalcata giallorossa, Granata tra alti e bassi. E poi un anno di sport, Emanuele e Lalli si confermano star. E per il quotidiano del Molise controlliamo le pagine interne. ACEM si chiude un anno di crisi di Nero, con il cambio di governo avviato un rapporto più inteso con la politica. Bilancio 2013 per l'Associazione dei Costruttori Dili fondamentale, anche il protocollo siglato con Conf Cooperative. E poi il dimensionamento scolastico. Petro Arroia è conforme, il vicepresidente si difende. Il piano rispetta la normativa vigente e sarà inserito nelle anagrafe delle scuole. E intanto sorella attacca, è totalmente fuori norma e non tiene conto delle specificità del territorio. Ti amo da morire, il femminicidio fatto di storie e musica, il PSI, diamo il nostro contributo alla violenza contro le donne. E poi Molise è entrata a SPA, ecco l'anagrafe tributaria, nasce la nuova società regionale che salva i dipendenti di esattorie. Scarabeo entusiasta, servizi più efficienti e meno onerosi. Fino ad oggi nessuna risposta all'opposizione regionale, si diano certezze per affrontare la crisi. E poi passiamo a primo piano Molise, che titola con Nasce Molise Entrate, salvi 68 lavoratori. La Giunta regionale mette in sicurezza i dipendenti di esattorie che saranno riassorbiti dalla società in house. Frattura, gettiamo le basi per una gestione integrata delle attività di incasso, accertamento e riscossione. Mantenuti gli impegni con i lavoratori di esattorie SPA che saranno riassorbiti dalla società in house Molise Entrate SPA. Ieri la Giunta regionale, guidata da Frattura, ha messo in sicurezza 68 posti di lavoro e gettato le basi per una gestione integrata delle attività di incasso, accertamento e riscossione di tasse e tributi locali. E poi l'avvertenza ITR concordato, presentata la roadmap, una new co con al massimo 250 unità. La di Petrollini ha illustrato il documento al commissario, il progetto definitivo sarà pronto a fine gennaio. C'è il piano concordatario, lo ha presentato la di Petrollini, la nuova roadmap prevede un taglio dei lavoratori, ne serviranno al massimo 250. E poi la nomina, cambio al vertice dell'Agenzia di Protezione Civile, arriva Emidio Mastronardi, l'ex direttore dell'Arsiam al posto di Alberta Delisio. Scuola, dimensionamento a norma, disco verde al piano approvato dall'assise di Palazzo Moffa, il MIUR conforme alla normativa vigente. Campobasso, a seconda della volontà della moglie, disperde le sue ceneri nel mare della Sardegna, denunciato. E poi Termoli, ieri funerali della 32enne, morta di setticemia, parla il marito, aveva fatto i controlli, ora vogliamo la verità. Ma chi a Godena, il sindaco Iapaolo si dimette, non ci sono più le condizioni, bocciata la proposta di azzerare l'esecutivo. E poi la notizia dall'Abruzzo, precisamente da Vasto, parte la stagione dei saldi, ecco il va de me come per evitare le truffe. Contro le contraffazioni, consigli di Confcommercio. E poi passiamo allo sport, serie D, clamoroso a Isernia, mister Carannante chiede un periodo di riflessione, l'allenatore è scettico sull'organizzazione. Calcio regionale, poker, bagnolese, Roccamandolfi, ok, Molise Cup, travolto il Macchia. Calcio a 5, l'Isernia, pari, ricco d'orgoglio, contro il Fuente Lucera. E anche per primo piano Molise controlliamo la seconda e la terza pagina. Bilancio di fine anno, l'ACEM guarda avanti con ottimismo. Il presidente Di Niro occorre voltare pagina, ci sono buone possibilità per farcela. L'Associazione dei costruttori di lì traccia un consuntivo delle attività che hanno caratterizzato il 2013. Dimensionamento disco verde dal MIUR al piano approvato dall'Aula di Palazzo Moffa per il Ministero è pienamente conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente. E poi Molise per Civati chiede primarie aperte anche per il congresso regionale del PD le scelte dei partiti. Tasse e tributi, nasce Molise, entrata SPA, approvata ieri la delibera che avvia il processo per la costituzione di una società in house. L'esecutivo regionale mantiene gli impegni assunti con i dipendenti di esattoria in cassa integrazione da giugno. I sindacati soddisfatti, licenziamenti scongiurati. Altro cambio al vertice dell'Agenzia di protezione civile, nominato Emilio Mastronardi che prende il posto di Alberta Delisio. Riorganizzazione del personale, Petraroi appuntiamo ad ottimizzare e valorizzare le risorse umane. Bilancio di fine anno, utilizzo dei fondi pubblici e salute, le battaglie dell'Associazione Anticorruzione Corea. Passiamo adesso al quotidiano Il Tempo e vediamo la sezione relativa al Molise. Campobasso Molise-Acque dovrà essere risarcita. La commissione per l'appalto dell'Acquedotto era poco esperta. La Corte dei Conti condanna l'ex direttore al pagamento di un milione di euro. E poi ancora torna in libertà il ragazzo che perseguitava la sua ex. Adesso guardiamo insieme l'home page del quotidiano online. Informa Molise. In primo piano festività natalizie e tutti gli eventi in Molise. E poi ancora per il commercio al dettaglio. Il 2013 è stato peggiore. Del 2012 si salvano solo i discount. Molise-Città perché l'Aggiunta Mazzuto non lavora per l'occupazione. E ancora 46esima marcia per la pace e convegno nazionale di Pax Christi. In ultimo Cisle Post è sbagliato privatizzare solo per fare cassa. Adesso passiamo alla stampa nazionale e leggiamo la Repubblica. Letta sia al confronto sul governo. Rimpasto. Replica al PD. Parlamonti senza di me. Berlusconi al Quirinale. Ma i Renziani alzano il tiro. Non basta. Troppi errori. O si cambia o si muore. Grillo sfida Napolitano. Il 31. Ascoltate il mio controdiscorso. E poi ancora MPS. Vince la fondazione. Bocciato. Il piano profumo. L'aumento a 3 miliardi. Rinviato a metà maggio. Il Presidente a un passo dalle dimissioni. Renzi sulle banche. Il partito. Deve stare zitto. Passiamo adesso al messaggero. Tutti gli aumenti del 2014. Da gennaio via. E rincari per benzina, autostrade, luce, contributi di lavoratori e imprese. Costerà di più il caffè alle macchinette. Nel privato donna in pensione a 63 anni e 9 mesi. E poi ancora Cina. Addio al figlio unico. E stop ai campi di lavoro. Svolta riformista del Congresso del Popolo. Poi l'argentese senza accordo alla tedesca. Meglio il voto. Rimpasto le richieste di Renzi. Nel mirino anche Saccomanni. Cresce il pressing sul governo Letta. O si cambia o si muore. E poi l'Assemblea. Aumento MPS. Vince la fondazione più forte. Il rischio di statalizzazione. E ancora carcerati studenti. Reinserimento flop. Poi prigionieri dei ghiacci. Soccorso fallito. Passiamo adesso al quotidiano. Il tempo. L'ultimatum dei renziani al governo. Attacco. I fedelissimi del segretario del PD. O si cambia radicalmente o si muore. Tra le richieste riforme e rimpasto. Sul lavoro patto CISL-FIOM con il sindaco di Firenze. L'editoriale. Matteo prepara la resa dei conti. E poi ancora la differenziata. È una porcata a Roma. È inutile separare i rifiuti. Abbiamo scoperto il blef dell'AMA. E ancora inchiesta sul pedone ucciso. Il giudice abbassa i limiti di velocità a Roma. Stato mafia. Le strane intercettazioni di Rina contro Di Matteo. E poi ancora indaga la procura. Terreni avvelenati, malati e morti a Cassino. Passiamo adesso alla stampa. Renzi, Gelaletta e Alfano. Niente in comune con loro. Intervista al leader del PD. Il governo dà le larghe intese al Marchette. Poi mi ha chiesto rimpasti. Non ho interesse a mettere pedine. Dovevano abolire i prefetti. Ne hanno aggiunti 17. Il retroscena. Il premier lo attende al barco. Il banco di prova sarà il lavoro. Il capo dell'esecutivo conta di sottoscrivere con gli alleati entro il 20 gennaio il contratto 2014. Fisco sorpresa. Nel 2013 sono calate le tasse. La CGA senza IMU sconti fino a 250 euro a famiglia. E poi la RAI ha 60 anni. Ma non vuole invecchiare. Il 3 gennaio del 1954. La prima trasmissione della TV pubblica. Leone. Tecnologia e cultura. Le sfide di adesso. E poi MPS. Rinviato l'aumento profumo. Banca a rischio. Prevari la fondazione. Passiamo adesso all'informazione economica. Leggiamo il sole 24 ore. Ecco le nuove tasse del 2014. Tasi, Tari e IRPEF sulle case sfitte. Oltre un miliardo dal risparmio nella legge di stabilità e rincari di prelievo per i cittadini e le imprese superano i tagli di oltre 2 miliardi. La lunga strada del fisco leggero. L'analisi del sole 24 ore. E poi ancora mercato in regola. E la scommessa vincente della democrazia contro la crisi. Infrastrutture. Nel 2013 crollo del 16%. L'analisi del cresme sui bandi di gara. Montepaschi rinvia l'aumento. Profumo di mettermi. Deciderò a gennaio in consiglio. La fondazione boccia in assemblea il lancio immediato dell'operazione. E ancora pressing Renziano. Sul governo Letta si cambia o si muore tensioni nella maggioranza. Renzi fra il dire e il fare. E poi ancora le notizie in panorama. Valanga due morti in Val d'Aosta. Ragazzo tratto in salvo in Valtellina. Adesso passiamo all'informazione sportiva. Leggiamo la gazzetta dello sport. L'intervista al tecnico della Juve premiato a Dubai. La fame di Conte. Scudetto, Europa League, Coppa Italia. Voglio tutto. Dobbiamo vincere all'estero e tornare ai vertici mondiali. Per me il calcio è passione. Non sono d'accordo con chi dice che in questo sport è già stato inventato tutto. Time out. C'è l'ok di capello. E Guardiola. E poi ancora Tegola a Milan. Odissea al Sharawi. Altro stop di 70 giorni. Il faraone operato al piede sinistro in Portogallo per ridurre una frattura. Obiettivo mondiale a rischio. È una stagione maledetta per l'attaccante. E ancora attacco. Maradona. Icardi è un traditore. Noi l'avremmo picchiato. E poi panchina calda. Svolta Lazio. Torna Reia. Pektovic licenziato. E ancora ciclismo. Bettini ciao a Italia. Lo aspetta Alonso. Sorpresa. Si dimette il CT. Loris stecca. Ipotesi di premeditazione. Il dramma ha coltellato la socia. E poi ancora Borini in ospedale. Anelka gol esulta contro gli ebrei. Leggiamo adesso il correre dello sport. Conte spaventa la Juve. Non importa se il resto penso solo a vincere lo scudetto. L'Europa League. Prandelli prima scelta bianconera in caso di addio. E ancora la Roma stringe i tempi per avere Nengolan. ma non molla a parolo. Milan senza pace. Il Sharaw è operato fuori due mesi. Reia e Lazio. C'è la firma fino al 2015. Pektovic è licenziato per giusta causa. E poi ancora a caso. Anelka esultanza antisemita. Borini sviene nell'intervallo. È in ospedale. E poi passiamo al tennis. La moda del tennis. I vecchi assi sono coach. Dei nuovi big. Lendl, Becker, Edberg. I numeri 1 ora allenano. E in ultimo dramma stecca Loris. Perché l'hai fatto parla il fratello Maurizio. Oggi Super B. Palermo a Crotone. Pescara Empoli. Vale mezza A. E questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV. E buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni meteo per domenica 29 dicembre. La pressione torna a diminuire a causa di un fronte in transito che porterà nubi in marcia da nord verso sud nonché piogge in serata tra Molise, Puglia settentrionale e Lucania. Temperature minime in aumento, massime in calo, venti moderati, mari mossi. Campobasso minima 4, massima 10 gradi. Isernia minima 4, massima 13 gradi. Termoli minima 10, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Accademia Britannica ed International House Accademia Britannica ed International House